Anche da parte del consigliere regionale Montanariello, riconoscimento dell'eccellenza dei cantieri Adriatic Shipyard, da cui ieri è stato varato lo yacht Ocean King Vajus, un'eccellenza veneta da valorizzare, a cui va riconosciuto il merito di tenere alto il prestigio della nostra regione nel mondo, frutto dell'alta specializzazione delle maestranze. La nautica conclude Montanariello, indiscutibilmente uno dei volani di sviluppo sui quali va prestata la massima attenzione da parte istituzionale, e Ocean King va da questo punto di vista considerata come un punto di riferimento ed esempio di lavoro portato avanti con serietà e professionalità. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, superofferta su feltro, pannolence, gomma eva, 3x2 e sconti su tutti i nastri a metro. Passa la Pegaso Passa la Pegaso Passa la Pegaso Passa la Pegaso